ciao a tutti continuiamo ancora con le proprietà dei livelli di testo e in particolare prenderemo in considerazione un secondo tipo di selettore il wiggly selector che come vedremo è in grado di aggiungere variazioni casuali random alle animazioni dei caratteri del testo benissimo quindi veniamo subito nella timeline apriamo il contenuto del testo selezioniamo la sezione text e dal menu animate cominciamo ad aggiungere una proprietà e per esempio aggiungiamo la proprietà position come già sappiamo aggiungendo questa proprietà possiamo spostare tutte quante le lettere in orizzontale oppure in verticale benissimo ora selezioniamo il contenitore animator 1 e dal suo menu add ci concentriamo sulla sezione selector che contiene la lista dei vari selettori che è possibile aggiungere all'interno di questo animator il primo della lista è un range selector che noi abbiamo già in partenza nel momento in cui viene creato l'animator ed eventualmente se ne possono aggiungere altri e poi per secondo abbiamo il wiggly selector che vedremo adesso e per terzo abbiamo l'expression selector che non vedremo perché ha a che fare con le espressioni che affronteremo però molto più avanti all'interno del corso quindi ritorniamo su wiggly e aggiungiamolo all'interno di animator benissimo per capire come funziona il wiggly selector basta che noi adesso modifichiamo i valori della position se per esempio noi aumentiamo la posizione verticale le varie lettere si spostano in direzione verticale ma non tutte della stessa quantità alcune si spostano verso il basso verso valori positivi e alcuni si spostano verso l'alto in un modo del tutto casuale la stessa cosa se viaggiamo anche sul primo parametro la posizione x le lettere si distribuiscono sia a destra sia a sinistra con valori del tutto casuali random e non solo se noi facciamo una preview vediamo che questa casualità della posizione verticale orizzontale continua a cambiare nel tempo e non è mai uguale bene adesso azzeriamo il parametro x della position manteniamo soltanto un valore per la variazione in verticale ed ora apriamo il contenuto di wiggly selector e analizziamo i suoi parametri più importanti innanzitutto il wiggle second che è responsabile di quel movimento casuale che abbiamo visto prima al momento è impostato su 2 se noi lo aumentassimo per esempio un valore intorno ai 20 facciamo ancora la preview noterete subito che l'animazione è ancora più rapida quindi questo parametro qui gestisce la velocità della variazione e se noi questo valore lo azzeriamo succede invece che l'animazione casuale si annulla del tutto e vedete che se io sposto il cursore avanti indietro nella timeline le lettere rimangono sì in una posizione casuale però non la modificano più mentre invece se riportiamo di nuovo il valore a 2 riprende il movimento casuale delle lettere in su e in giù benissimo poi abbiamo un parametro based on che è simile a quello che avevamo nel range selector in questo caso è impostato su characters cioè la variazione della posizione avviene lettera per lettera e noi possiamo se vogliamo cambiare questa impostazione abbiamo la possibilità characters excluding spaces cioè vengono prese in considerazione soltanto le lettere ma non gli spazi vuoti poi abbiamo a disposizione anche words e in questo caso il movimento casuale in verticale avviene parola per parola come potete vedere e se invece scegliamo lines e tutta quanta la linea che si sposta contemporaneamente in su e in giù benissimo quindi rimettiamo di nuovo characters altro parametro importante è il correlation che al momento è impostato al 50 per cento e funziona in modo tale che se noi lo portiamo al valore minimo la casualità della posizione verticale è massima se noi invece portiamo questo valore al massimo al cento per cento a quel punto la casualità si annulla e tutte quante le lettere hanno la stessa posizione verticale e se abbiamo invece dei valori vicino al cento per cento ma non proprio al cento per cento tra le varie lettere esiste in qualche modo una specie di legame tanto è vero che se facciamo la preview come potete vedere ogni lettera ha una posizione verticale diversa però c'è una certa punto correlazione fra le varie lettere riportiamo il valore ancora 50 saltiamo le proprietà temporal phase e spatial phase e concentriamoci su lock dimension però per capirla meglio l'applichiamo ad un'altra proprietà non alla position ma alla scala quindi seleziono position la elimino seleziono animator e dal suo elenco delle proprietà aggiungo come dicevo la proprietà scala ecco se in questo caso adesso io cambio il valore di scala lo porto verso lo zero come vedete ora la larghezza e l'altezza delle lettere sono del tutto indipendenti per esempio lo si vede bene la m la m si è ristretta molto in larghezza ma si è allargata in altezza ad esempio ma se noi vogliamo che le lettere si ingrandiscano si rimpiccioliscono a caso ma mantengano la loro proporzione larghezza altezza allora possiamo appunto cambiare l'impostazione di lock dimension da off a on proviamo come potete vedere ogni lettera ha una grandezza diversa dalle altre però in questo caso rimane comunque la proporzione originale tra l'altezza larghezza delle lettere benissimo ultimo parametro è il random seed grazie al quale è possibile cambiare la casualità generale che il wiggly selector ha applicato alle lettere proviamo aumentiamo il valore come vedete ad ogni valore corrisponde una casualità diversa benissimo adesso prima di creare un'animazione con il wiggly selector reimpostiamo lock dimension su off eliminiamo di nuovo la proprietà scale e riaggiungiamo la proprietà position che avevamo all'inizio quindi dal menu add riaggiungo position benissimo in quale situazioni può essere utile il wiggly selector innanzitutto può essere utile per creare una situazione di disordine all'interno delle lettere che poi rimane costante per tutta quanta la scena ad esempio potremmo aumentare di pochi pixel la posizione x e y delle varie lettere soltanto per avere un testo che vibra in modo casuale come in questo caso qui in questo caso potremmo anche aumentare il wiggle second da 2 a 10 in modo da avere un testo particolarmente agitato quasi fosse animato da una scossa elettrica e questo è un modo per poter sfruttare il wiggly selector e attualmente a questa modalità qua la potremmo impostare anche su altre proprietà scala rotation eccetera eccetera oppure col wiggly selector possiamo semplicemente creare una situazione di caos iniziale che poi viene ricomposto in modo tale che il testo torna la sua situazione iniziale ordinata e questo lo possiamo fare in un paio di modi allora incominciamo a creare una situazione di disordine un po più accentuata magari aumentiamo di più il valore verticale della position benissimo e adesso riporteremo il testo alla sua situazione originale cioè con le lettere bene ordinate in fila e per poter far questo dobbiamo passare attraverso il range selector che abbiamo visto nella lezione precedente quindi apriamo i parametri di range selector apriamo anche la sezione advanced e se vogliamo riportare tutte quante le lettere contemporaneamente al loro stato originale semplicemente agiamo sul parametro amount cioè lo portiamo dal 100% come è impostato adesso fino al valore 0 in modo che le lettere ritornano al loro stato originale facciamo subito una prova prendiamo il cursore lo portiamo al tempo 0 accendiamo l'orologio di amount a 100% prendiamo il cursore avanziamo circa un paio di secondi e azzeriamo questo parametro come vedete a 0 le lettere sono tornate tutte nella loro situazione originale facciamo pure una preview il caos iniziale piano piano diminuisce fino a che le lettere tornano la loro situazione iniziale e questo avviene contemporaneamente su tutte le lettere benissimo adesso però eliminiamo l'animazione su amount e riportiamo il suo valore originale al 100% adesso vediamo il secondo caso cioè cerchiamo di riportare le lettere al loro stato originale però una lettera alla volta prima la m poi la o poi la t poi la i eccetera eccetera e per farlo ci comportiamo esattamente come abbiamo imparato nella lezione precedente dobbiamo lavorare sull'intervallo del range selector e per la precisione usiamo la seconda modalità che avevamo imparato quella che usa come parametro shape non square ma ramp up bene adesso prendiamo lo start lo impostiamo a circa 50% come facevamo nella lezione precedente e ora faremo l'animazione sul parametro offset dal suo minimo che è meno 100% al suo massimo che è 100% quindi prendiamo il cursore lo portiamo al tempo 0 portiamo l'offset come dicevamo a meno 100% e accendiamo l'orologio poi avanziamo col cursore anche in questo caso circa due secondi e portiamo l'offset al 100% e se facciamo una preview in questo caso le lettere dal loro caos iniziale tornano una alla volta alla situazione originale prima la m che si ricompone poi la o poi la t eccetera eccetera e se non volessimo far tornare le lettere alla situazione originale dalla prima all'ultima ma in un ordine casuale possiamo anche attivare il parametro randomize order facciamo una preview come vedete questa volta non si comincia dalla m la o la t ma con un ordine del tutto casuale benissimo quindi come avete visto se si lavora sul parametro amount si riportano tutte quante le lettere contemporaneamente alla loro situazione di ordine iniziale oppure se si lavora sull'intervallo offset si riportano le lettere una dopo l'altra al loro stato iniziale benissimo e con questo esempio possiamo finire qua e ci vediamo alla prossima ciao